Allora, l'intervento è andato come previsto, è andato molto bene, senza complicazioni, è finito nei tempi previsti e adesso il paziente è in terapia intensiva. Allora, Mario Rossi, perché abbiamo operato Mario Rossi, è in terapia intensiva, è sotto monitoraggio come tutti i pazienti, quindi ci vuole cautela, ci vuole attesa, ci vuole pazienza, siamo fiduciosi, domani pomeriggio vi rimandiamo appunto a un momento di chiarezza definitivo. In questo momento è sedato, era previsto che non dicessimo altro, vi ringraziamo e soprattutto ci scusiamo con voi. Ma è sedato in questo momento? Siamo tranquilli. Arrivederci.